Softec Bomber 6-4 La trovo una tavola molto divertente, molto facile, parte con poche remate grazie a tutto questo volume che ha davanti aperto e il nose così largo. Quando ci spostiamo nella parte del tay, con i piedi, lo possiamo surfare come una shortboard, possiamo camminare da tavola avanzando verso il nose e possiamo fare anche dei bei nose ride. Vedete che il nose è bello largo, è un'ottima tavola di transizione nel passaggio dalla longboard alla shortboard. Come tutte le tavole softtech viene venduto insieme a delle pinne FCS2 morbide, in questo caso io ho montato delle pinne FCS2 rigide in resina, rendendo la tavola più performante nei cambi di direzione. Un surfista di 50-60 kg, quindi un livello avanzato può usare questa tavola su onde molto piccole e comportarsi come se stesse utilizzando quasi un longboard. Mentre un surfista sui 80-90 kg di livello avanzato può usare questa tavola come se fosse una vera e propria shortboard, quindi è una tavola che copre molte situazioni. Questa 6-4 ha 56 litri di volume, quindi chi cerca una tavola più performante, più simile a una shortboard, può prendere il modello 5-10 che ha solamente 44 litri di volume. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!